Noi siamo per la chiusura senza sé, senza ma dell'area a caldo, perché non c'è modo di rendere l'area a caldo non inquinante. Non si può sottoporre un'intera città a ricatto occupazionale avvelenando la gente. Elena Danielis, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, stamani ospite di Sveglia Trieste, ribadito, richiesta da un telespettatore, la posizione del Movimento per quel che riguarda la ferriera di Servola. Danielis non nasconde il nodo centrale, né sorvola su un dato sotto gli occhi di tutti, la difficoltà di conciliare le due facce della medaglia ferriera. Conciliare l'occupazione con la chiusura dell'area a caldo non è banale, non è un problema di soluzione rapida o per cui chiunque ha in tasca il jolly, non è semplicissimo ed è assolutamente doveroso, soprattutto in una città come Trieste che ha i livelli di disoccupazione che tutti conosciamo, non possiamo pensare di lasciare a piedi tutte quelle famiglie. E' un lavoro da fare, però su una cosa il 5 Stelle non ha dubbi, la necessità di chiudere l'area a caldo. Pure, secondo l'esponente Grillina, se non la soluzione, quantomeno una proposta per ragionare su un progetto sarebbe già a portata di mano. Quello che noi come 5 Stelle proponiamo dà una vita è di investire non sul mantenimento dell'area a caldo, ma di investire sul riutilizzo della ferriera. In definitiva, ragiona la consigliera comunale, basterebbe tornare alla prima proposta per il laminatoio. La prima proposta del laminatoio riguardava anche acciai speciali, lavorazioni particolari, poco eseguite in Europa e poteva essere un'occasione di reimpiego non solo del personale interno alla ferriera, ma occasione di lavoro anche per persone che al momento sono a piedi. Grazie.